Presa a pugni e a calci per futili motivi a Torre Quetta, vittima dell'aggressione avvenuta nella notte tra sabato e domenica, una ragazzina di 14 anni che stava ballando nei pressi di un locale della Movida del Capoluogo. La malcapitata avrebbe inavvertitamente toccato il braccio di una sua coetanea, dopodiché nonostante le scuse repentine sarebbe stata dapprima aggredita verbalmente da un gruppo di ragazze e ragazzi, quindi gli stessi sarebbero passati alle vie di fatto. Sul posto in seguito al parapiglia e su segnalazione di un parente della giovane sono arrivati i carabinieri che hanno provveduto a verbalizzare l'accaduto ascoltando sia la ragazza aggredita sia alcuni testimoni. Fortunatamente la vittima se l'è cavata senza particolari conseguenze fisiche. Sull'episodio è intervenuto Lorenzo Leonetti, il consigliere comunale delegato dal sindaco leccese per affrontare i problemi della Movida. L'accaduto non è passato inosservato a questa amministrazione che non tollera in alcun modo episodi simili, ha scritto Leonetti in un post sui social. Sono già in contatto con i gestori della spiaggia pubblica per concordare una strategia utile a contenere episodi simili e a salvaguardare la Movida. Preciso, ha concluso Leonetti, che Torre Quetta resta una location sicura, vigilata da security privata aperta a tutti. Episodi come questo non devono spaventarci ma solo farci riflettere sull'importanza di fare squadra per rendere Bari accogliente, piacevole ed europea.